Una giornata di festa al Palaglobo Luca Polsinelli, tutti in campo per la sesta edizione del torneo Osi dei Sapori Cup. Squadra, scuole e diocesi insieme per un grande progetto sociale promosso dall'Argos Volley Sora, che ormai da anni porta la palla a volo tra i giovani, cercando di evidenziare determinati valori come l'aggregazione, lo spirito di squadra e la solidarietà. Beh, certamente è un'immensa soddisfazione, è il punto culmine di questo nostro percorso annuale, ma ci tengo a dire che è un momento che è effettivamente il più importante. Durante l'anno è sempre più difficile cercare di aggregare dei nostri atleti, ma lo stiamo facendo con molta gioia. Confermiamo che l'anno prossimo raddoppieremo ancora di più gli sforzi. Durante la settimana i nostri atleti, con le loro diversità, specialmente gli stranieri, anche con religioni diverse, vanno nelle diocesi, nelle parrocchie e riescono a interloquire con i ragazzini, con tutto il mondo che li gira attorno e riusciamo un attimino ad avere dei contatti con loro, per cui c'è questo bellissimo incontro. La domenica poi dopo riusciamo ad averli anche nel nostro palazzetto e questo format sta veramente dandole il massimo della sua bellezza. Siamo felici di questo accordo, porteremo avanti ancora di più, sempre di più, perché è quello su cui noi crediamo, cercando di mettere anche noi un pochino a disposizione quello che abbiamo per fare veramente qualche cosa per questi ragazzi. Il progetto è nato da un interesse comune riferito al benessere delle persone, in questo caso dei ragazzi e dei giovani che sono coinvolti nell'attività sportiva in ogni sua disciplina, direi, ma a partire da questo accordo che abbiamo condiviso con l'Argos of Volley, proprio per avere un punto concreto di convergenza, qual è l'attività sportiva che assora e direi tradizionale, tradizionalmente vissuta, per poter incidere a livello fortemente educativo. Il mondo dello sport non deve venire in parrocchia, dobbiamo cercare di abitarlo lì dove si sorge, perché poi ci sia anche un ritorno nella comunità cristiana in una forma di collaborazione e di reciprocità.